Basila 2019, Leo Grande Allora sono ovviamente contentissimo di partecipare a questa gara storica ma sono rammaricato per tutti i pseudo piloti perché i piloti noi sono che boicottano questa gara che è eccezionale meriterebbe veramente bel anno qui c'è accorso Scetti, Merzallo, Nesti, Almeras e questi qua non vengono a correre, è bestiale e come se uno ci ha morito a Bellucci nel letto e non c'è la scopla è la stessa cosa vostra piloti calabresi, siciliani, campani e pugliesi siete la legazione dell'automobile quindi l'hai cantata a tutti gli assenti è assurdo, vanno a fare gare di tre chilometri e non fanno questa gara ma è assurdo siccome non sono piloti, la verità è questa non sono piloti, qua prendono 30 secondi minimi fra un pilota bravo e uno che non è pilota prendono 30 secondi, come fanno poi a giustificare su un fanpage come fanno a dire ringrazio papà, ringrazio mamma, ringrazio il nonno come fanno a ringraziare ecco perché non fanno la compagnia, sto pronto per questo hanno sempre il battesimo alla Coppa Silla alla Sarano Sassotetto e alla Trento Mondone all'occhio, tutti i battesimi, comunione e cresimo tutto all'occhio l'avete arrivederci, saluto piloti, arrivederci ciao! 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 Grazie a tutti.